Musica Voglio giocare la prima partita con voi Adesso io devo Mettere posta la luce Ok va bene Mangini mettiamo Così ok Gioco principale Gioco principale Nuova partita Facile Facile perché non ho mai giocato che shock io vedo ragazzi che questo gioco non ho mai giocato quindi non so come sarà questo gioco quindi non potrò alla fine in quanto c'è la più parte di Dio sei stupendo o brutto infinite che shock infinita hai paura di Dio? no ma ho paura di te perché? così 1912 cost of mine hai intenzione di restare seduta? l'alternativa qual è? in piedi? no l'alternativa è remare remare? non ci penso nemmeno quindi ti aspetti che faccia tutto io? no mi aspetto solo che remi sempre tu e perché mai? è stata un'idea tua un'idea mia? sono stata chiara sul fatto che non credo nell'esercizio no remare? no anche se credo sia un buon esercizio allora cosa? l'esperimento sul pescello wow scusate manca ancora molto uno partecipa a un esperimento sapendo di tutto a chi non sta a casa a fort? ma una non prende parte a un esperimento saperne di vedere subito con una pistola subito ti suggerisco di farlo non arriveremo mai no intendevo che una foto di una persona che non so chi è perché non lo chiede a lui? immagino che gli interessi più che a me è una chiave siamo arrivati beh se vuoi dire rimorremo sai so ok bravo più i passi non gli diciamo quando ritorneremo potrebbe comportarlo un po'? almeno su questo siamo d'accordo ehi c'è qualcuno da accogliermi? spero proprio di sì sembra un posto terribile dove ritrovarsi a piedi forse c'è qualcuno all'interno ah bobbio non ho abbandonato qui perfetto che mica devo fare ditemelo cioè mi hanno abbandonato qua così ragazzi così mi abbandonano così permesso sono Booker DeWitt immagino mi stiate aspettando non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno merda non è una cosa bella ragazzi dimmi così mi hanno abbandonato qua così si salta mi hanno detto a fare di nuovo il giro un attimo quel biglietto vero non c'è nessuno due tre tre ma cazzo che cazzo che cazzo è dai ragazzi un portale va bene pare che si aspettino che mi sieda sulla loro bella sedia che cazzo che cazzo è non cazzo non cazzo dannazione ascensione ascensione tra 5 4 no 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 3 2 1 no ascensione ascensione vabbè 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 12 10 12 12 12 12 13 15 16 vedete che continuo questo gioco come Tomb Raider che poi continuerò tranquillamente ah tommai adesso mi sono arrivati già al quinto e terzo episodio, quindi lo pubblicare quale quarte e poi quinto e poi si cresce sulle nuvole, primo obiettivo, perfetto così non so niente in inglese, sono uno scarso in inglese, se scrivi in italiano non fai capire molto meglio è lest change or fall è bene che posso farlo così, così, così la pistola abbiamo persa, quindi se non ci vuole sparare o ci vuole prendere, noi non possiamo scappare ma non so no 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 uff ma no 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 Chiaro scusa, dove mi trovo? E il paradiso, o la cosa più simile fino al giorno del giudizio? Cosa? Siamo morti? Meglio che tenga per me queste domande, se non voglio farmi ammazzare. E ogni anno, in questa occasione, rinnoviamo il nostro impegno verso la città e il nostro profeta, Padre Comstock. Rinnoviamo il nostro impegno col sacrificio e rendendo grazie e immergendoci nelle acque del battesimo. Qualcuno di nuovo? Qualcuno che viene da Sodoma? Nuovo arrivato a Columbia per essere purificato davanti al profeta, ai fondatori e al Signore? Ho bisogno solo di entrare in città. Entrare in città? Fratello, l'unico modo di entrare a Columbia è la rinascita nelle acque battesimali. Ti farai purificare, fratello? Non lo faccio, pure giro in... Ehi! Ti battezzo nel nome del profeta, nel nome dei fondatori e nel nome del Signore. Che tu puoi purificare dal peccato e nasca a uno nel ventre di Columbia. Minchia! Non saprei, fratelli e sorelle, questo non mi sembra molto purificato. Boh, così, mi la foto se... Chi c'è? Chi va là? Portaci la ragazza! E annulla il debito! Che cosa vuoi? Avevamo un accordo, Dewitt. Apra questa porta, immediatamente! Te l'ho detto! Non lo farò! Ora va via! Signor Dewitt! Ok... Perfetto, siamo arrivati! Sempre di qua! Che palla Aspetta Ok possiamo andare avanti No Dobbiamo sentire questi qua Oh Di qua Poi ancora qui Vai ragazzi Oh siamo arrivati Così Non rivelare la tua presenza Non rivelare la tua presenza Qualunque cosa faccia Non prendere il numero 77 Stop No 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 saliamo sempre di su ragazzi perché non sta capendo più niente no non so dove andare dove andare dai qui di qua e quindi accetti le cose che si leggera la batteria non ti armi accetti il confetto mi dia uno di quelli mi dia uno di quelli mi dia uno di quelli cos'è sta roba ma dai vai cosa è che caso? mi dispiace amico mi spiglietti e da lì è l'entrata che per l'interno è l'interno di Gliart è un po' di membro della T3 è un po' di gusto molto entorno ahhh forza fatemi passare testa 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 visto? non mi dà mai La soddisfazione che immagini sarà per la prossima volta Ma cos'è? Ma perché? Testa e croce Di qua, ok Testa Mamma Testa bellezza, cerchiamo l'intera divisione Se vogliamo reculire dei nomi, reculire dei box Dello sistema Skyline Mi... Dai Cosa diavolo? Cosa diavolo? Ad... perché c'è? Cosa diavolo? La notteria Eh... Eh, si Quindi... Sì, si vedono delle balle, io passo Oh, non... No, voglio passare Come faccio passare? Eh... se riesco passare... Eh... se riesco passare... Purtroppo devo giocare Ah... purtroppo... devo giocareっち ecco ma che culo te prego che state facendo forza hai intenzione di lanciare o bevi il taffè nero in questo periodo oh a quanto pare abbiamo un timidone è lui è lui non lo sai scusa cosa? bam a fuori minchia dove è l'altro finito dove andare a voler perfetto non vieni a quanto subito Oh Dopo mi strada? Eccola Dopo mi strada? Eccola Cazzo, chi è? Ma non capisco che è Ma non capisco che è Mi faccio curarmi Porca vaca Ok Morite Bastardi Ok Accanto, che cosa succede? Che cosa succede? Che cosa succede? Muori Fuori Minchia Minchia Wow Ragazzi Ci sono il mio cuci e ci vediamo nel prossimo video Bella Ciao